bentornati alla nuova puntata delle fritte ciao marco ciao ciao pietro eccoci qua e continuiamo con la nostra nostra separazione puntata da remoto e questa volta parliamo di black lives matter e come prima cosa direi il la sigla un'informazione sulla sigla breve passaggio che avete sentito e prince il folletto di mineapolis proprio perché è a mineapolis che è stato ucciso o floyd dalla polizia e una canzone baltimore che prince fece nel 2015 per un altro uno dei tanti e assassini di giovani neri era freddy gray di 25 anni ucciso dalla polizia e marco raccontaci in brevissimo il fatto diciamo nudo e crudo se il fatto nudo e crudo è che questo americano di colore floyd viene fermato dalla polizia nei video si vede molto bene che lui è lì tranquillo o contornato dalla polizia e poi a un certo punto viene sbattuto a terra un poliziotto li mette usa questa pratica che purtroppo è frequente a parte che in america non solo in america in molte polizie in giro per il mondo di bloccare la persona a terra ponendogli il ginocchio sopra il collo o questa in questa posizione questo simpatico criminale e poliziotto ci resta per otto minuti e quaranta nonostante che floyd da terra li dica ripetutamente ai country non posso respirare rimane in questa posizione gli altri tre poliziotti si vedono in un altro video sono lì tranquilli paciosi e non fanno niente e ammazzano floyd viene ammazzato in questa maniera brutalmente dalla polizia bianca perché sono quattro poliziotti bianchi di mineapolis la reazione della società civile o come come dire anche di singoli cittadini è stata sorprendente perché nel giro di qualche ora diverse manifestazioni a mineapolis hanno luogo e già la prima sera viene dato fuoco completamente al sembra carpenter distretto 13 un famoso film il distretto di polizia era circondato dalle bande del quartiere c'è anche una reazione di trump marco su questi sconti come sempre trump la reazione di trump sono state talmente sopra le righe che addirittura l'episcopato americano a un certo punto ha detto non se ne può più ha definito delinquenti teppisti non c'è stata una parola contro l'atteggiamento dei poliziotti e nel momento in cui si sono diffuse in numerosissime città americane e manifestazioni con moltissimi partecipanti fra l'altro con una sorprendente capacità di partecipazione anche di bianchi insieme ai neri non sono state solo rivolte nere come era successo per altri omicidi si è inventato che era un'azione degli antifascisti che erano gli antifa che devono essere messi fuori legge e cose simili insomma diciamo che non ha neanche tenuto quel minimo di ipocrisia classico dei governanti in questi casi di cercare di stemperare gli animi e anche rispetto alle manifestazioni che si sono tenute a washington e che sono arrivate molto vicine alla soglia della casa bianca ha avuto delle reazioni diciamo un po coattesche del tipo vi è qua sotto che ci penso io sciogliano qui dentro a me ha colpito molto le dichiarazioni di obama su questa questione perché obama pur cercando di riportare la situazione alla calma non ha mai dato addosso ai manifestanti perché riconosce in questo messaggio che invito tutti andare andare a vedere sul suo profilo twitter ha ricordato le problematiche reali che vive la società afroamericana nonostante come dire siamo nel 2020 e dopo 400 anni non si è riusciti a risolvere ritornando agli stati uniti le interviste di alcuni manifestanti neri dicevano noi dobbiamo scegliere tra morire di covido essere ammazzati dalla polizia visto che negli stati uniti la larghissima maggioranza delle persone colpite dal covide e fra i morti sono fra i neri gli ispano americani e le popolazioni le minoranze razziali perché sono quelle che poi non hanno l'accesso alla sanità e quindi quando si beccano il virus c'è poco da fare in tutta europa in tutto il mondo e anche in tutta europa sono state manifestazioni qui a bruxelles c'è stata una grandissima manifestazione domenica scorsa circa 10.000 persone fra l'altro o bravissimi se voi vedete le immagini e ci hanno quasi tutti la mascherina c'è il distanziamento fisico indubbiamente non c'è perché se tu metti 10.000 persone nella piazza dove è stata fatta c'è un problema ma tutti quanti con mascherina dimostrando come la questione del razzismo e della violenza poliziesca non è una questione solo americana allora l'america in qualche modo è un modello da questo punto di vista però anche nel nostro caso di di chi vive in cui in belgio il comportamento della polizia belga rispetto a ai non bianchi ai non ariani e diciamo che non normalmente non ci va assolutamente con le leggere e di pochi giorni fa quando già eravamo in pieno blocco coronavirus degli incidenti gravissimi e accaduti ad underlet con la morte di un ragazzo marco durante queste manifestazioni sia negli stati uniti che che qui in europa c'è stato un accanirsi contro dei simboli delle statue fondamentalmente che negli stati uniti sono diventati cristoforo colombo e in in belgio contro il re che come dire è stato responsabile l'invasione del congo del genocidio congolese addirittura leggevo che in gran bretagna oltre che a diversi schiavisti addirittura qualcuno ha cominciato a prendersa con le statue di di churchill e ecco anche un col fondatore degli scout diciamo l'orba del powell diciamo tu cosa ne pensi un po di questa questione dell'accanimento sulle statue ma sai i l'accanimento sulle statue dividerei in due no uno è nel corso di una manifestazione di rabbia si decide si si abbatte la statua di un mercante di schiavi come è successo a bristol in gran bretagna e lo si tira a nel fiume benvenga splendido io che c'è una certa età mi ricorda alla le proteste operaie del 68 a val d'anio e l'abbattimento della statua del cavaliere marsotto il padrone della fabbrica abbattuto e tirato dal suolo ed è ed è sorprendente non leggere i commenti sdegnati di quelli che applaudivano all'abbattimento della stata di saddam hussein e alla fine della guerra in iraq e non parliamo di quello che dicevano quando venivano abbattute le statue e negli ex paesi dell'est dopo la fine il crollo del comunismo altra cosa è la decisione politica freddo di eventualmente rimuovere alcune statue su questo le battute stupide e si susseguono di coloro che sono contrari in assoluto no normalmente vengono di adesso butteremo giù il colosseo perché è stato fatto grazie agli schiavi o le piramidi o cose simili allora rimuovere la statua di uno mercante di schiavi o di un razzista in un momento in cui il razzismo è ancora presente nei nostri paesi mi sembra un atto dovuto non solo giusto ma dovuto dopodiché ci sono delle esagerazioni certo churchill fu anche un razzista ma indubbiamente la statua churchill è il churchill che organizza la difesa dell'inghilterra durante la seconda guerra mondiale che va a una certa differenza è una cosa interessante quella a chi erano questi schiavisti questa gente no ed è più in generale il colonialismo occidentale nei confronti dei paesi dell'africa o dell'asia lo schiavista e in genere il colonialismo ha portato via gratis o a prezzi risibili le risorse prime con le quali poi ha aumentato la capacità produttiva e la ricchezza del paese d'origine non è che il mercante di schiavi poi si mette tutto in saccoccia riutilizza fa parte dell'arricchimento del paese per cui per esempio abbiamo queste situazioni un caso emblematico è la statua di cecile rod il fondatore della della dello stato o razzista di rodesia che è dentro l'università di cambridge se non mi sbaglio perché perché il ricchissimo se si rod finanziò l'università e continua tramite le fondazioni dei suoi eredi a passare del denaro o all'università allora è vero che pecunia non ho lette però in alcuni casi odora e odora molto o in senso negativo allora buttare tutto nel mucchio e mettere si churchill montanelli o il mercante di schiavi o baden powell alcuni vanno vanno eliminati perché sono la rappresentazione di una memoria che in qualche maniera è ancora presente attiva nel suo aspetto più negativo la questione dei saccheggi che è tornata a spesso e volentieri chi ha una certa età la conosce non normalmente nei media se c'è una manifestazione che non che dà un po fastidio ci sta pure qualche incidente qualche cosa si mette il fuoco esclusivamente gli incidenti e si rimuove questo questo è successo dappertutto in particolar modo in america ma anche qui in belgia a bruxelles il giorno dopo la manifestazione e se uno apriva le suar sembrava che c'era fosse stata la guerra civile a bruxelles e le battute anche qui sui saccheggi una cosa brevissima no spesso e volentieri c'è la l'affermazione sul moralista a nel saccheggio non è la non è l'assalto ai forni del pane se in occidente non c'è l'assalto ai forni del pane perché più o meno il pane riescono a prenderlo tutto se c'è un saccheggio è normale che normalmente la gente saccheggi le cose più pregiate si devo rischiare rischio per qualcosa di avere sia perché nel peggiore dei casi la rivende per comprare quell'altra poi l'altra battuta sempre che 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 passa è quella su hanno saccheggiato il negozio del coreano o dell'italo americano e sulla quinta avenue non ci riescono i manifestanti andare a saccheggiare i negozi di gucci o altre prestigio cartier o altre prestigiose vetrine per cui quello trovano e nel momento di rabbia di devastazione quello devastano quindi marco direi di chiudere qua ci aggiorniamo alla prossima settimana e niente condividete questo video tra i vostri amici il più possibile manifestate manifestare manifestazioni manifestate ciao a tutti